La libertà si impara con la libertà. Questa secondo me è una delle parole d'ordine che guida questo ente collettivo, che è un movimento che mette insieme tante personalità diverse, come Basaglia, come Pirella e come altri medici, che hanno dato vita a una stagione di libertà per il nostro Paese. Si intitola Elogio del frammento, la mostra sull'archivio di Agostino Pirella, ospitata dal campus universitario del Pionta ad Arezzo. Era questo il titolo che il noto psichiatra aveva dato ad una selezione di appunti, citazioni, poesie, oggi a disposizione nell'archivio donato all'Università di Siena. Mi dà un po' la sensazione come se effettivamente la figura di mio padre venisse consegnata alla storia, diciamo così, no? Storia non so se con la S maiuscola o minuscola, ma insomma alla storia, diciamo. Quindi è un po' un modo di anche separarsi, comunque accompagnare la figura di mio padre verso una condivisione non solo con le persone che lo conoscono, ma con tutti. Due teche per raccontare la figura di colui che assieme a Franco Basaglia farà la storia della psichiatria e l'ospedale neuropsichiatrico del Pionta, oggi sede dell'Università, rappresenterà il primo vero esperimento per rovesciare il concetto di malato psichiatrico. Aveva la consapevolezza che quella legge modificava, trasformava quello che prima in un manicomio era un paziente trattato molto spesso come oggetto da osservare in un soggetto portatore di diritti. Volevamo far vedere una cosa particolare che avevamo trovato e è un taccuino degli anni Ottanta con il riferimento al suicidio di Primo Levi. Parla della contraddizione portata da un testimone sopravvissuto che decide di morire e quindi entra nel profondo della questione semplicemente utilizzando pochissime parole.